La protesta degli agricoltori e allevatori molisani si sposta davanti alla sede della giunta regionale. I trattori restano fermi in presidio a Campobasso nell'area di sosta di San Giovannello. Nel frattempo una delegazione di manifestanti è stata ricevuta dall'assessore Micone. C'è preoccupazione per il futuro dell'agricoltura molisana già messa a dura prova da una crisi che va avanti da anni. I nuovi provvedimenti adottati dall'Europa rischiano di dare il colpo di grazia. Le richieste sono più che altre rivolte oltre all'assessore Micone che diciamo è responsabile in parte dei nostri problemi di questo momento più verso l'Europa. Vogliamo rappresentare questo in primis all'assessore Micone che si faccia da portavoce a livello nazionale e altrettanto poi a livello nazionale farsi portavoce in Europa dei grossi problemi che ha l'agricoltura in generale. Ecco parliamone di questi problemi anche perché la protesta sta dilagando in tutta Europa, in Francia, Germania ma anche in Italia. Quali sono i problemi principali? Il problema principe diciamo noi è soprattutto il Green Deal, cioè essere tacciati come quelli che inquinano l'ambiente e noi ne dobbiamo pagare le conseguenze lasciando le nostre aziende incolte fra poco perché a queste condizioni siamo costretti tutti a chiudere. Da quello parte un po' tutto perché non possiamo essere accusati che noi siamo quelli che inquiniamo l'ambiente, noi siamo quelli che tuteliamo l'ambiente, siamo quelli che salvaguardiamo l'ambiente. Chi meglio di noi vuole applicare un'agricoltura sostenibile lo sappiamo e lo vogliamo fare però ci devono mettere in condizioni di farlo. Gli aumenti di costi di produzione non solo di carburanti, di fertilizzanti, di pezzi di ricampio, oramai è diventato tutto incontrollabile. Noi non siamo più padroni delle nostre coltivazioni. Voi pensate che anche questa direttiva che riguarda la carne sintetica oppure l'utilizzo di farine di origine, cioè di insetti, anche questo potrebbe secondo lei coinvolgere le vostre aziende. Certamente, soprattutto questo. A discapito dei nostri prodotti genuini l'Italia ha chiesto in Europa e al mondo che la cucina italiana diventi bene immateriale dell'UNESCO quando poi portiamo sulle nostre tavole le farine di insetto, la carne sintetica e quant'altro, trascurando le nostre produzioni tipiche. Per cui noi facciamo un appello soprattutto al governo italiano affinché possa difendere le nostre tipicità che sono uniche al mondo.